di molta gente che naturalmente è nutrita da un sentimento di invidia o di rabbia nei nostri confronti perché subisce una sorta di complesso di inferiorità. Io non credo ai complessi di inferiorità, credo che i meridionali in molti casi siano inferiori. Adesso me li fai arrabbiare davvero, no direttore non puoi dirlo questo. E chi se ne frega, ma chi se ne frega se ne s'arrabbiano. Se a me s'arrabbiano tutti i giorni, mi insultano, mi augurano di morire. Io ho quello che penso.